Nuovo incontro stamattina a Palazzo Raffaello tra istituzioni e sindacati sulla vicenda Fincantieri. La riunione è servita per fare il punto della situazione a due giorni dall'incontro con l'amministratore delegato Bono, che ha già garantito l'impegno per la costruzione di due nuove navi. L'obiettivo è quello di rilanciare lo stabilimento di Ancone del suo indotto attraverso una riorganizzazione dell'unità produttiva, considerata strategica soprattutto per la costruzione di navi di piccole e medie dimensioni. Un impegno che comporterà un'integrazione abriatica con i cantieri di Marghera e Monfalcone. Prioritaria per la regione resta la salvaguardia occupazionale dei lavoratori.